Ragazzi andiamo a analizzare ciò che è successo. Ciao a tutti innanzitutto e andiamo a parlare di tutto quello che è successo nelle ultime ore del calcio. Che è successo? Ci sono stati i gironi di Champions ragazzi, ci sono stati Juventus e Atalanta e in questo momento voglio andare a fare un piccolo zoom su cosa è successo per Juventus e Atalanta e dando percentuali, lo sapete, day after delle 7 intanto buongiorno a tutti, buona mattinata ragazzi spero passiate un'ottima mattinata andando a scuola, suppongo, e eventualmente a lavoro con i miei video se non guardate i miei video vi spacco la mascella. Comunque iniziamo subito partendo da Juventus Zenit Juventus Zenit mi ha lasciato tanti spunti e tanti ragazzi dicono che la Juve sia una squadra diversa da campionato e Champions League io invece sono dell'opinione che bisogna vedere le prossime due gare, sono dell'opinione di guardare e di fare che Allegri faccia calma continuiamo il ritiro di fare calma e di vedere come andrà contro la Fiorentina perché quello ragazzi in questo momento per la situazione in classifica sarà innanzitutto fondamentale e sarà un big match a tutti gli effetti perché la Fiorentina con italiano sta veramente tornando molto grande poi ragazzi bisogna capire se da quelle partite, dalle prossime due partite, quelle dopo, non mi ricordo con chi è onestamente da lì si capirà se la Juventus è stata una squadra assolutamente diversa tra Champions League e campionato oppure se è una squadra che può andare, non dico al pari passo, ma più o meno sì bisogna vedere se vinceremo il cortomuso contro la Fiorentina e se esprimeremo un bel gioco cosa che oggi ragazzi abbiamo visto posso dire una cosa, Dybala ha rinato, Dybala ha mezz'ora in atto fa anche la posa del gol che è poi stato annullato a Platini nel 1985 a Tokyo nella finale di Coppa Intercontinentale Dybala che veramente ha fatto una grande prestazione, ha preso un palo e ha fatto due gol un po' di culo il secondo perché se non fossero entrati quei due imbecilli dello Zenit non sarebbe mai stato gol e poi ragazzi c'è stata un'unica sbavatura a mio parere, oltre a Lugani che vabbè non lo considero c'è stata unica sbavatura, la deviazione, veramente che cazzo di deviazione ha fatto? Bonucci l'ha messa in dentro, se fosse stato un gol sarebbe stato un gol della Madonna comunque poi già hanno segnato Chiesa che ha fatto una grande prestazione Morata che si è mangiato 25 gol prima di segnare ma alla fine tutto sommato sono molto contenta dire il vero per la prestazione che ho visto dei ragazzi in vista delle prossime partite passiamo a Atalanta-Manchester United che sfiga ragazzi che ci hanno mentre per la Juve parliamo di una situazione ah, recap sulla situazione il girone della Juve che è 12 a Juventus secondo i Chelsea a 9 terzo il Zenit a 3 e ultimo il Malmo a 0 quindi situazione che ormai è devideata sarà tra virgolette decisiva la prossima partita tra Zenit e lo Zenit che affronta affronta il Chelsea cioè solamente a dire il vero praticamente noi lo sappiamo che lo Zenit non passerà non riuscirà a vincere contro il Chelsea però mai dire mai c'è quella minissima possibilità che passa il girone con il Malmo che al massimo si giocherà il terzo posto per l'accesso al turno playoff perché quest'anno ci sono i playoff per gli ottavi di Europa League quindi niente di che però comunque questo è il girone passiamo a quello dell'Atalanta Manchester United dell'Atalanta che sfiga ragazzi si vede che è ancora una squadra ancora pochino dico che quest'anno è l'ultimo anno per raggiungere la vera maturazione in caso l'anno prossimo vada in Champions secondo me la maturità sarà fatta perché da quanti anni è che partecipa la Champions? 18-19? 19-20? 20-21? 21-22? ragazzi gli anni passano no 19-20 la prima 20-21 la seconda 21-22 la terza quindi ragazzi gli anni passano e ormai dopo 2-3 anni in Champions League riesci a maturare poi il Ronaldo veramente sembra agguerrito contro l'Atalanta ancora non gliela vuole dare a Gonsens ovviamente la maglia infatti gli fa due bei fischioni ma veramente questo Manchester United dovrebbe essere una grande squadra che però gira solamente su due giocatori che sono Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes che fa gli assist che fa i bei passaggi e Ronaldo che la butta dentro devono capire che così non vanno avanti la situazione del Gironegas è critica di davvero per l'Atalanta che si trova terza con 5 punti con dietro Young Boys che ne ha 3 con davanti le due le due leader in questo momento che sono la Spagnola di Real e il Manchester United tutte e due a pari merito a 7 quindi può essere una situazione abbastanza vantaggiosa abbastanza a vantaggio per l'Atalanta però bisogna vedere come andrà ragazzi in ogni caso questo video si conclude qua fatemi sapere ovviamente la vostra come sempre qui sotto nei commenti in ogni caso noi ci vediamo bella